buongiorno a tutti auguri di buon anno amici di youtube siamo tornati a pesca con l'anno nuovo abbiamo preso un ottimo un ottimo pesce una giornata come potete vedere molto ruolosa mare fantastico fortunatamente abbiamo avuto una mangiata e abbiamo preso il primo pesce dell'anno ve lo voglio dedicare a tutti a tutti voi che passate le giornate come me sulle scogliere una spigola meravigliosa una spigola su 1,3 kg 1,4 kg splendida guardate che bellezza la dedico a tutti gli amici di youtube ma soprattutto a chi mi conosce un grosso un grosso saluto da sargo ciao a tutti